La situazione del contagio in città è a livelli da picco. I casi si susseguono e riscontri drammatici si registrano tra le corsie del reparto Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove anche medici e operatori devono affrontare la paura di essere contagiati. Nelle ultime ore emergono due decessi. Alla donna di Mazzarino, morte in mattinata, si è aggiunto quello di un altro paziente gelese. Il bilancio è nefasto e i sanitari dell'ospedale si trovano a fare i conti con gli effetti di un virus mai tanto grave. I numeri del contagio, come era facile pronosticare, sono ancora in risalita. 19 positivi sono stati registrati in città solo nelle ultime 24 ore. Tre i pazienti ricoverati al Vittorio Emanuele. A Caltanissette, in malattia infettiva al Sant'Elia, è stato trasferito un altro paziente di Gela, oltre uno di Riesi. Un paziente nisce mese è deceduto, sempre al Sant'Elia. Era positivo e ricoverato in rianimazione. Sette contagi si sono riscontrati sempre a Niscemi, tre a Mazzarino e due a Riesi. E il costante aumento dei contagi da Covid in città e nel resto del territorio provinciale ha spinto ieri il prefetto Cosima Distani a convocare forze dell'ordine, sindaci e manager ASP. È stato confermato l'intervento ancora più massiccio dei militari dell'esercito impegnati nell'operazione strade sicure del confronto. In videoconferenza ha approfittato proprio il prefetto per indicare come l'ultimo DPCM preveda la possibilità di chiudere o contingentare l'accesso ad aree pubbliche, altrimenti difficilmente controllabili. Si tratta delle zone della città dove si concentrano normalmente più persone senza un vero distanziamento sociale. Un esperimento che è già stato avviato dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti per numerosi luoghi di aggregazione del piccolo centro nisseno. In città intanto, dopo il riavvio di martedì, bisognerà capire se il mercato settimanale che ha già incassato il parere contrario delle commissioni sanità e sviluppo economico potrà proseguire anche per la prossima settimana. Sindaco e assessore all'istruzione intanto hanno avviato un confronto con i dirigenti scolastici per valutare la situazione delle scuole. In base ai dati forniti da ASP in provincia fino a ieri erano 1.106 positivi al covid, 1.045 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati e 8 in terapia intensiva. Si tenta di adottare misure di attenuazione del contagio anche per evitare che le strutture sanitarie non riescano più a fornire supporto qualora i numeri diventassero ancora più preoccupanti.